Allora, noi stiamo qui con il signore, se io non sbaglio, lei è il proprietario di questo negozio? No, è mia moglie la proprietaria di negozio. Questo signore che è il proprietario, diciamo, il sopporto del proprietario, perché è il marito del proprietario ed è un gelato che non esiste per tutto il mondo, puoi cercare, puoi cercare, anche tu vuoi, perché io ci ho provato. E comunque, he is the owner's husband of the world's most famous ice cream in, guess where we are, San Gimignano, ragazzi. No, you take it away. She always said wrong, not ice cream. We have gelato. Ok, then it's ok. E spiegali la storia, sia in italiano che in inglese, perché loro, perché sono conosciuti, perché si revolutionize ogni volta. Non è che c'hai i tipici gelati. We have a 12 mark, trademark flavor. 12 flavor you can find just in our shop. And we just use natural ingredients. In our shop, don't use these flavors, don't use these colors. Organic fruit, organic milk, etc., etc., and a lot of passion. Yes, a lot of passion. And tell us what are your most famous flavors right now. Right now is the crema di Santa Fina with the saffron of San Gimignano. Have you heard about this? No, but I'm now very curious. Look it up. Look it up. I'm going to show you this gentleman's story. Can you remind me, what is your name? Sergio. Sergio. Always. And look at Sergio. Look at him. Look at Sergio. Look at Sergio. In Canada. I'm Italo-Canadese, so I was born in Toronto. No, you don't mean Toronto. You see, Toronto. Toronto. Come on. I love his hat. I know. And he's a Fiorentina fan. Of course. My father. Eccolo. Fiorentina. And we say Toronto. He's right. This man is very cultured. Altro che, he only makes gelato. And this is his store. Oops. Aspetta, come si fa? This is his store back here. The lineup starts here and it ends down there. Yes. Sometime. Today. Today. That's why we didn't wait today. Thank you so much. It was a pleasure. No, thank you. Buona Pasqua. Grazie. Buona Pasqua. Say happy Easter to Toronto. Happy Easter to Toronto. Everybody come to San Gimignano and taste Sergio's wife's ice cream. Again, ice cream. It's gelato. Gelato. Take ten. Gelato. No, è gelato. È diverso. Ice cream è un'altra cosa. Ice cream è un'altra cosa. Grazie Sergio, you're the best gelato. Ciao. Buona Pasqua. Eva ha detto gelato. Ma c'è quello. Oh, come c'è cresciuto.